Ciao a tutti, vi presentiamo la nostra recensione del casco UVX4, si tratta di un modello pensato per un utilizzo all mountain, quindi troviamo una generosa protezione in corrispondenza della nuca, 17 aperture e una costruzione in EPS a doppia densità. La visiera è regolabile in maniera continua, come potete vedere, e frontalmente troviamo una retina interna a protezione dagli insetti. All'interno le imbottiture sono ovviamente antimicrobiche rimovibili per il lavaggio, mentre le regolazioni sono affidate al sistema IAS di UVX, che consente una regolazione fine della calzata. Ovviamente al posteriore troviamo la classica ghiera per la regolazione della circonferenza. La chiusura, infine, è affidata a un particolare pulsante, che si chiama Monomatic, che può essere quindi regolato in maniera su diverse posizioni. Vi ricordo che potete trovare la nostra recensione completa al link indicato nelle info del video. Un saluto a tutti! Grazie a tutti!